Sì, sì, buonasera a tutti, partiamo con un applauso, dai, bene, forte, buonasera, benvenuti Benvenuti allo spettacolo di fine anno della fanfulla 1874 ADS Ginnastica e Scherba dal titolo Contaminazione Moving Together Allora, innanzitutto, prima di cominciare, mi sembra doveroso, da parte della ginnastica fanfulla Facciamo un grosso in bocca al lupo alla signora che purtroppo, si volando dalle scale, è stata appena portata via dalla professione Io sono Franco Rossi, ho il piacere di presentare e accompagnarvi in questo momento di festa che come anni hanno a concludere una bella e intensa stagione scortiva Come vedete, non siamo a Lodi, ma siamo a Crema Tutti gli sforzi del Consiglio Direttivo e l'insistenza del Presidente nel cercare di ottenere l'ok e a procedere si sono conclusi con un semplice, l'autorizzazione non c'è Per un primo momento c'è stata delusione, rabbia, sconforto Adesso hanno rapidamente lasciato il posto a una reazione positiva di tutta la società che ha trovato questa location alternativa ed è partita con l'organizzazione efficiente e definitiva che da sempre la potrà distingue Ed eccoci qua stasera Grazie, non l'abbiamo fatta D'altronde si sa che i norigiani avranno andare a Crema perché abbiamo detto, vabbè, andiamo a Crema, è chiuso Perché il titolo Contabilazione? Perché? Perché è l'idea questa di creare collaborazioni e lavori coralli tra gli atleti delle diverse sezioni fanculline e di farvi vedere esibizioni dei cinnasti bianconeri con discipline diverse tra karate, danza classica, tifat, giocoglieri e percussionisti pensate, acrobazie, musica, divertimento, spettacolo, moving together Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ma è com'è nostro prima di cominciare chiamare qui sul palco il nostro Presidente Giancarlo Caramelli Felizzo, 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 Felizzo Presidente Felizzo, 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 Felizzo Felizzo, 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 Fel un'unica attività in questo momento che può usare il palazzetto in deroga e il motivo è uno solo, per problemi di ordine pubblico, quindi io mi sono domandato perché non fare disordine pubblico, l'ho detto il comune, l'ho detto il prefetto e poi sono andato a conoscere il comandante dei vigili di fuoco, un certo architetto Massimo Stucchi, se non più nella vita perché l'ottusità dei burocrati messi in un posto di comando, di un corpo operativo, io credo che sia un controsenso, credo sia un controsenso che possiamo vedere solo nel nostro paese, forse anche il bello del nostro paese ed è il bello che ci fa prendere anche questa negatività e trovare una soluzione alternativa in una città vicina che grazie a Dio trova un posto per ospitarci. Sono spiacente di aver guidato questo disturbo e spero di essere l'unico Presidente della Fanfulla a vivere questo evento così particolare. Chiudiamo qua e godiamoci lo spettacolo di finale. Approvvisto per chiamare come sempre qua tutti gli allenatori perché sono, diciamo, la nostra forza. Non vedete il vendito perché dopo ho fatto i nomi, quindi questo, diciamo, è lo staff tecnico quasi al completo, ci sono quasi tutti. Io posso solo ringraziarvi per l'attrazione e l'impegno che ci mettono e spero di proseguire con questa voglia di fare che è quella di formare avanti la solidarietà. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Approvvisto per ringraziare ancora una volta la rendizione della Banca Antipolare che continua a sostenersi nei nostri impegni, affiancandoci e facendoci realizzare quelli che erano i nostri progetti sulla palestra Ghifio, oltre alla fondazione provinciale che ci aiuta, diciamo, in quei progetti un pochino più naif, tipo quelli dell'orto, del giardino e del frutteto che anche ultimamente hanno accettato di darci una mano economicamente. Saluto tutti e ringrazio. Grazie mille. Grazie mille.